ciao a tutti oggi ci tocca un tutorial un po complicato pesantuccio ma fondamentale tanti errori vengono commessi da quello che ho potuto vedere dal mio piccolo osservatorio con le query ieri nella scorsa lezione scusate nella scorsa nello scorso tutorial abbiamo affrontato già una query che è quella appunto che che ci consentiva di realizzare il cosiddetto look up sulle tabelle quindi guardare una tabella differente su quella in cui stiamo da quella su cui stiamo inserendo dei dati e visualizzare un determinato campo come se fosse il campo contenuto in una tabella diversa e quindi diciamo ho pensato di partire da qui ma con una piccola premessa ricordate sempre quando lavoriamo in access che in realtà appunto il nostro sistema il nostro buon access ha fondamentalmente un certo numero di tipi di oggetto con cui voi potrete lavorare il primo l'avete visto che sono appunto tabelle il secondo l'avete anche visto sono query sostanzialmente abbiamo anche maschile report questo significa che detto in un'altra maniera access se poi aggiungiamo vba soprattutto è un completo sistema di sviluppo per cui potete visualizzare cose a video stamparle e addirittura lavorare sulle tabelle direttamente ora questa questa cosa non è assolutamente un fatto normale infatti access è un programma molto potente che ormai una lunga storia alle spalle e che ha questa peculiarità quella di riuscire a dialogare con il vero e proprio motore del database che voi non vedete che del tutto trasparente che si chiama jet for nella nell'ultima versione jet 4 ed è come dire trasparente perché viene installato con l'installazione di windows voi non lo vedete mai come dire è un programma a sé stante che gira in sottofondo insieme a tutti gli altri programmi del vostro computer e che quando viene interrogato da risposte oppure quando viene istruito crea tabelle crea quelli crea quello che che è necessario fare e questo tipo di comunicazione come avviene avviene attraverso un linguaggio strutturato che si chiama appunto sequel structured query language quindi è un linguaggio strutturato di query di interrogazioni di istruzioni che avete già visto peraltro la volta scorsa sempre sempre durante il look up ora quello che su cui oggi mi poggerò per fare gli esempi che ci serviranno è un database nella sua strutturazione diciamo quasi definitiva quasi definitiva riprenderemo ovviamente la questione progettuale però adesso bisogno di dare anche consistenza determinate cose che ho detto una delle cose più importanti che magari a voi potrebbe essere sfuggita è un'asserzione di questo tipo tutto è collegato a tutto ora è chiaro che quando si tratta di avere a che fare con due o tre tabelle insomma il concetto è abbastanza poco chiaro credo che da questa visualizzazione già potreste invece farvi un'idea diversa come vedete un banale problema come quello della realizzazione di un piccolo database ad uso personale di libri una libreria digitale come vedete e poi può avere anche un numero cospicuo di tabelle con cui avere a che fare quando i dati dobbiamo strutturarli in maniera un po più seria un po precisa profonda e tutto è collegato a tutto significa che questi tradunioni queste relazioni che che io ho steso e che poi impareremo a stendere meglio hanno un una loro logica nel senso che uniscono uno qualunque dei come posso dire dei campi distanti della calma della tabella countries una tabella nazioni che non vi ho fatto vedere che adesso andremo a chiarire meglio come come significato come utilizzo a un dato che si trova anche molto lontano per esempio un libro una nazione un libro ha un senso legarla beh sicuramente dal punto di vista del tabella si se i dati sono stati inseriti tutti correttamente se la struttura del database è stata data una volta per tutte in maniera corretta ben strutturata omogenea e come come dire normalizzata come dicono gli informatici che si occupano di database allora vedrete che sicuramente ha un senso bene iniziamo da un esempio così non lasciamo le cose campate in aria solo a livello teorico un esempio da cui partire interessante è questo vediamo che in questa stesura del database noi abbiamo la tabella autori che ha come campo un id comune sapete bene che di un campo numerico in questo caso intero lungo e che viene legato da una relazione 1 a molti con il tabella comuni la tabella comuni per dire la vediamo subito contiene ovviamente tutti i comuni d'italia quindi ve li faccio vedere sono tanti abbiamo più o meno 8101 comuni quelli avanzanti cioè l'8102 e l'8103 se li andiamo a vedere sostanzialmente altro non sono che due comuni che ho aggiunto io che sono londra e berlino e che sono come dire li ho inseriti perché tra i vari autori appunto avevo da inserire degli autori stranieri uno lato a londra e l'altro berlino ovviamente quello che iniziamo a notare da da questa diciamo come differenza no tra tutti i comuni d'italia e che qui compare vedete italy come i code e abbiamo anche il comune che compare in questa colonna dove ci sono tutti i comuni d'italia qui siamo arrivati alla z e dove dentro abbiamo messo il nome del comune di londra e di berlino i comuni italiani hanno tutta una serie di informazioni se vogliamo anche sovrabbondanti però qua notiamo una differenza certamente il comune di londra non possiamo attribuire al comune di londra una provincia per lo meno una provincia italiana e con la nomenclatura che abbiamo noi inoltre comunque ho dato modo alla nostra bella tabella comuni di avere un campo i code international code codice internazionale in cui compare vedete la nazione italiana come ho fatto ad avere questo dato beh questo dato semplicemente era implicito per la maggior parte dei comuni italiani quindi ho fatto un aggiornamento di tutta la tabella mettendo italy 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 a tutti quanti e poi ovviamente dando manualmente avendo inserito londra manualmente berlino manualmente l'ho messo io manualmente quindi che cosa ci aspettiamo di trovare nella colonna i code ci aspetteremo di trovare sostanzialmente una sorta di look up andiamolo a vedere come è fatto andiamo intanto a vedere la relazione vediamo la relazione vediamo che la tabella comuni è legata alla tabella countries tramite appunto il campo i code questa è una situazione nuova per voi perché siete abituati a vedere come dire il tramite del collegamento tra una tabella e un'altra come un campo id beh non è strettamente necessario io vi ho sempre detto per creare una relazione è necessario che i due campi nelle due tabelle siano identici dello stesso tipo in questo caso avremo due campi testo ok che cos'è un campo i code andiamolo a vedere a questo punto nella tabella countries e così vediamo come è fatto un campo i code un campo i code è fatto prendiamo la tabella countries in questa maniera vedete e sostanzialmente lasciate perdere i primi tre che sono diciamo per un utilizzo interno come vedete sono campi è un campo anzi che contiene due solo caratteri e che identificano sostanzialmente il nome della nazione se andiamo a cercare la nostra amata nazione vedete la troviamo qui quindi l'icode dell'icode dell'italia è it un po' banalmente assomiglia a quello che è il dominio di primo livello che pure in questa tabella è contenuto vedete il dominio di primo livello dei siti italiani è certamente .it quello che ci interessa capire è che nella tabella di riferimento countries l'icode è sostanzialmente un campo di due caratteri ovviamente sono tutti diversi intendiamoci se andiamo a vedere la stessa cosa dal punto di vista della tabella comuni che ciò qui sotto vedremo che nel campo icode mi viene visualizzato Italy ma dov'è il campo Italy cioè o meglio dov'è il contenuto che che io sto visualizzando beh è molto semplice andiamo a vedere come è stata fatta questa query di lookup quindi andiamo nel nostro campo icode o icode che dir si voglia andiamo nella ricerca questa è la nostra query andiamo a vedere attraverso la query by example quindi la parte grafica di questa query come è fatta e vediamo che è stata presa la tabella countries è stato messo come primo campo l'icode un po' come succede con l'id d'accordo in altri casi e poi è stata estratta la nazione quindi sostanzialmente il campo icode viene utilizzato come indice e il campo successivo come cosa che deve essere visualizzata come dato da visualizzare e infatti anche qui troviamo la stessa solfa che la colonna associata quindi l'indice l'uno due colonne da visualizzare di cui la prima 0 e la seconda 2 cm e il risultato è esattamente quello che avevamo visto cioè che viene visualizzata è esattamente il dato Italy che nella tabella countries c'è ed è questo nazione il campo nazione ok in chiaro ora detto questo questo è diciamo una normale query di lookup molto semplice che abbiamo già affrontato la volta scorsa ma esistono ovviamente modi diversi di effettuare questo tipo di lavori con le tabelle attraverso le query andiamo un po' oltre e vi mostro un esempio molto più complicato da dove iniziamo il primo passo è cosa fa una query apriamo la tabella autori io lavoro direttamente in tabella e allora la apro e vedo come è fatta questa tabella i dati che sono contenuti ora questa qui la possiamo vedere possiamo ragionevolmente vedere come se fosse una vista diciamo così il problema è che di una tabella normalmente io vedo un po' tutto e l'ordine in cui sono inserite le cose che pure posso darglielo è un ordine diciamo così assolutamente arbitrario infatti quando inserisco i dati in tabella posso tranquillamente evitare di seguire una logica che so alfabetica cioè prendo i libri a caso dalla mia biblioteca e li inserisco non sto lì a pensare di inserire prima tutti i titoli che iniziano con la A e così via e poi la B e poi la C quindi sono contenitori di dati dove i dati possono essere messi veramente alla rinfusa che cosa fa una query di selezione perché esistono diversi tipi di query una query di selezione fa appunto questo dare la possibilità di visualizzare i dati o nella stessa o in altri modi per cui come faccio a creare una query posso andare nel crea e vi consiglio di utilizzare sempre struttura query quando io apro questa modalità di lavoro access mi dice beh su quale tabella vuoi lavorare tabella tabelle ovviamente vuoi lavorare lavoriamo sugli editori ok anzi no non abbiamo detto editori autori ok chiudo la tabella editori la posso anche eliminare in questo momento la rimuovo e guardate che faccio prendo tutti i campi mi seleziono dal primo all'ultimo per selezionarli così da apriamo il tasto maiuscolo lo shift mi metto qui nel primo campo non faccio altro prendo e mi metto in visualizzazione tabellare e vedete che sostanzialmente noi abbiamo un risultato perdono abbiamo un risultato assolutamente identico vedete query 1 mostra un risultato assolutamente identico a quello della tabella perché perché in realtà in questa query che ho scritto così attraverso l'esempio è che posso comunque visualizzare nella sua forma cql access mi dà la possibilità di farlo e questo è molto importante perché potrete imparare a fare le query e poi eventualmente riutilizzare che so all'interno di vba per esempio quindi torniamo alla nostra visualizzazione struttura la query by example quindi vedete io sostanzialmente non ho fatto altro che prendere la tabella e replicarla potrei iniziare da qualche parte per esempio dire beh non voglio visualizzare dei campi voglio visualizzare solamente l'anno di nascita e il nome e il cognome quindi wiki non lo voglio vedere non voglio vedere il comune e non voglio vedere l'id questa è una vista diversa sto vedendo esattamente la stessa tabella esattamente nello stesso ordine ma ho eliminato dalla visualizzazione alcuni campi non li ho eliminati del tutto intendiamo c'è solo un modo per visualizzarli ho semplicemente detto di non farlo che altro fa una query di selezione beh l'avete già vista per esempio l'ordinamento d'accordo in ordine alfabetico ma ovviamente può fare di più l'abbiamo già visto l'altra volta potrei decidere di creare un campo per esempio autore e scrivo autore due punti dando quindi un nome alla colonna e quindi posso mettere tra parentesi quali cognome che è il nome del campo che appunto contiene il dato cognome e poi una è commerciale doppi apici spazio doppi apici un'altra è commerciale quindi sto facendo una congiunzione sto mettendo sto interponendo uno spazio tra il cognome e il campo successivo che con parentesi quadra segno nome e a questo punto posso chiudere la parentesi quadra e posso tranquillamente decidere di non visualizzare più a questo punto nome e cognome non mi servono più perché ho creato il un campo chiamiamolo così calcolato autore d'accordo in cui appunto io visualizzo sia il nome che il cognome e decido addirittura di metterlo in ordine alfabetico crescente perché il primo dato è quello del cognome quindi mi va bene così avrò l'ordine alfabetico proviamo a visualizzarlo e vediamo il risultato ops c'è qualcosa che non ho fatto vedete non l'ho visualizzato vado a visualizzarlo ed eccoci qui quindi a questo punto ho ottenuto la stessa tabella di prima filtrata non visualizzando nell'anno di nascita nel campo wiki e ho creato invece un campo calcolato cognome spazio nome d'accordo ed è una cosa molto facile da fare come avete visto con una query ma posso fare anche di più posso creare un campo calcolato vero e proprio adesso ve lo mostro poniamoci per esempio l'obiettivo di voler calcolare gli anni diciamo così degli autori che abbiamo quanti anni ha un autore e come faccio a creare un campo calcolato e quindi posso creare un campo età per esempio quindi mi metto qui in un punto scrivo età mi raccomando non usate mai le accentate caratteri strani cercate di non usare mai gli spazi e fidatevi vedrete che vi tornerà utile come si calcola l'età di una persona? beh è facile quindi oggi, l'anno di oggi meno l'anno di nascita e quindi a questo punto il ragionamento è molto facile come faccio a scrivere l'anno di oggi? intanto year che significa anno a un certo punto ma quale anno? di oggi, di questo momento year now ok meno l'anno di nascita l'anno di nascita noi l'abbiamo chiamato anno underscore nascita vedete? quindi campo quindi parentesi quadra anno underscore nascita facilissimo e chiudo parentesi quadra ovviamente lo rendo visibile questo campo età d'accordo? e vediamo il risultato voilà e vediamo che l'età è di Amine 107 anni un po' vecchiotto diciamo così mentre l'altro ha 35 anni perché è nato nel 1985 via discorrendo potrei anche effettuare qualcosa di meglio per esempio chiedere ad Access di non visualizzare un autore se ha un'età superiore ai 100 anni mettiamola così decidiamo per esempio di non visualizzare gli ultracentenari come potremmo mettere come potremmo chiedere questo vincolo no? di inserire questo vincolo ad Access nulla di più facile andiamo nel campo criteri e del ovviamente del nostro campo età il campo criteri è questo qui e gli dico che deve essere minore di 100 per esempio oppure se volessi includere quindi 99 anni quindi se volessi includere anche 100 minore uguale 100 e quindi vedremo che il nostro ultracentenario non ci compare più quindi queste sono tutte operazioni tutte viste anche calcolate che voi potrete creare autonomamente senza grossi traumi con le query le query hanno un senso hanno un valore molto importante e quello che poi valuterete in futuro attraverso questo stratagemma della query by example cioè della query realizzata graficamente potrete accedere in qualunque momento all'equivalente diciamo così comando formula SQL e adesso vi propongo una sfida vi ho trascritto una domanda quando create una query dovete cercare di avere la domanda ben chiara in mente perché questa domanda se funziona cioè se è scritta bene è la vostra guida per creare appunto la query opportuna quella necessaria e sufficiente per ottenere il risultato voluto e vi dà una traccia ovviamente quindi leggiamola questa interrogazione da fare con una query di selezione voglio sapere se esiste almeno un libro quindi quale tabella andrò a come dire sarà implicata in questa ricerca sicuramente libri scritto da un autore londinese è un problema quindi io devo arrivare alla tabella libro dalla tabella probabilmente dalla tabella comuni giusto perché nella tabella comuni avrò sicuramente il comune di londra ma avrei potuto scrivere come domanda ancora più complicata ancora più complessa avrei potuto scrivere anche da un autore per esempio inglese giusto e mettiamo inglese quindi nato in inglese facciamola più complicata inglese perfetto e qual è ovviamente l'autore quindi come vedete dove io ho come dire il dato inghilterra che è una nazione il dato inghilterra come nazione ce l'ho nella tabella countries e dov'è il dato libri è nella tabella libri non c'è dubbio e chiaramente tutto questo passando attraverso un autore inevitabilmente ora quando io vi ho detto tutto è legato a tutto intendevo proprio questo che attraverso questi tradunioni queste relazioni io posso arrivare da un punto qualunque a un punto qualunque del nostro database e quindi effettuare l'interrogazione come se fosse la cosa più naturale del mondo basta prestare attenzione a quello che si fa come scriveremmo questa query riuscite a farlo in autonomia in realtà non è così difficile andiamo a riprendere la nostra domanda e scopriamo che il vincolo diciamo così il filtro che io dovrò inserire è appunto inglese quindi è da lì che devo partire? proviamo a porci questo interrogativo è probabile che sia da lì che devo partire perché ovviamente mi tirerò tutta una serie di selezioni a cascata arrivando fino all'autore e dallo scambio libro-autore arrivare al libro proviamo a scriverla è più facile scriverla che come dire pensarla per cui iniziamo a lavorare con un crea un semplice struttura query e iniziamo dall'inizio o meglio dal vincolo qual è il vincolo che io devo inserire? il vincolo che devo inserire è sicuramente contenuto nella tabella countries chiudo un attimo la tabella countries e inserisco il dato la nazione quindi la nazione che deve avere un criterio England ok che in realtà non è England ma è United Kingdom potrei prendere perché è più facile per esempio l'iCode quindi al posto della nazione scritto così io potrei prendere il campo iCode eliminare il campo nazione che non mi serve e sicuramente mettere nei criteri minuscolo o maiuscolo non ha nessun nessun problema a Windows UK United Kingdom e fin qua ci sono quindi partiamo dalla selezione della nazione a questo punto vedete quanto diventa importante il nostro layout delle relazioni possiamo arrivare alla tabella comuni sicuramente arriveremo dobbiamo passarci per forza dalla tabella comuni e quindi la inseriamo nella nostra domanda potete tranquillamente anche prendere direttamente da qui il campo e portarlo dentro dal momento che noi abbiamo già strutturato la relazione vedete Access ci visualizza nella query il tipo di relazione che c'è che esiste quindi sostanzialmente lui ci dirà che l'e-code della tabella countries poi passa all'e-code della tabella comuni ora questa cosa è una cosa interessante dal momento che abbiamo scelto i code in realtà io avrei potuto filtrare direttamente a questo livello per cui per farvi vedere l'utilità diciamo così probabilmente sarebbe stato più opportuno utilizzare come vincolo nazione mettendo qui united kingdom lo vogliamo fare? facciamolo è più è più sensato così è più facile anche comprendere quello che facciamo quindi tolgo questo vincolo prendo il campo nazione nei criteri però dovrò scrivere e questa volta lo devo scrivere ben bene united kingdom ok regno unito spero di averlo scritto bene ora quello che già in questa prima fase potete capire è che esiste un rapporto specifico tra la tabella comunica e derivata dalla tabella countries che stabilisce la regola la regola è united kingdom per cui guardate che cosa faccio dobbiamo selezionare inserire una sorta di freccetta in maniera tale che crei quello che in access nei database viene chiamato join il tipo di collegamento che viene effettuata qual è la principale qual è la secondaria la principale è sicuramente countries perché contiene il vincolo la secondaria è quella derivata e quindi io vorrò una freccetta verso destra ok e quindi anche se non state a leggere quello che c'è scritto qui scegliete il 2 e il 3 in questo caso sicuramente la 3 ok anzi no mi sono sbagliato in questo caso è la 2 includi tutti i record i countries eccetera eccetera quello che in realtà è più facile da vedere è proprio visivamente vedere che è la principale detta la regola la secondaria selezionami l'e-code corrispondente alla nazione United Kingdom e a questo punto che si fa? torniamo al nostro bel layout relazioni e vediamo che possiamo giungere direttamente all'autore senza passare dal via attraverso questa relazione ce l'abbiamo quindi inseriamo la tabella autori inseriamo la tabella autori e lo possiamo fare da qui anche la tabella autori è una tabella derivata perché a questo punto il vincolo viene posto dalla tabella comune quindi anche qui vorrò un come dire un ecco qui ho sbagliato esattamente il contrario va bene il vincolo sempre verso destra nella mia logica di selezione ok che cosa voglio dall'id autore intanto e qui ho bisogno di nome e cognome vedete quindi magari posso già qui prendere dei dati su quello che sarà l'autore nome e cognome però a questo punto io dovrò andare anche oltre perché dopo la tabella autori vedete noi vediamo che la tabella autori è collegata alla tabella di scambio libro autore per poter arrivare al libro devo passare dalla tabella di scambio ora noi sappiamo che le tabelle di scambio vedete lavorano con gli d ok con gli indici che in questo caso sono certamente numerici quindi qual è il vincolo da estrarre da autori per poter arrivare alla tabella scambio libro autore è molto semplice intanto prendiamo la tabella di scambio libro autore ok e quello che mi segna la relazione che già mi segna c'è la tabella è fatta che cosa fa come dire selezionerà l'id di scambio libro autore sulla base del vincolo autori sicuramente l'id autore e a questo punto anche qui inserisco un link come dire verso destra ricordate che questo è un esempio grafico e questo è una è molto potente invece di come dire stare a pensare troppo su come scrivere in sequel la vostra query access vi dà la possibilità di farlo in maniera grafica così facile tutto sommato ora a questo punto la tabella di scambio libro autore che cosa fa lo sapete è una relazione molto a molti che in sostanza mette insieme un autore a un libro un altro autore a un altro libro oppure un altro autore allo stesso libro ve lo ricordate per cui adesso per arrivare al libro io dovrò fare un altro passo e quindi inserire un'altra tabella un'altra tabella che anche questa è già collegata perché io ormai il mio layout relazioni ce l'ho bello e pronto e da qua io che cosa vorrò estrarre il titolo del libro ma sempre tenendo conto che il titolo del libro è un dato derivato giusto e a questo punto siccome è un dato derivato io metto anche qui un join in maniera tale da far capire ad access senza nessun dubbio senza nessun come nessuna ambiguità che ciò che voglio ottenere è il titolo di un libro e quindi a questo punto lo aggiungo qui ma su una base di come dire di dipendenza dipendenza dal vincolo che sarà dato in questo caso dall'id libro che a sua volta è dipendente dall'id autore della tabella autori che a sua volta è dipendente dall'id comune della tabella comune che a sua volta è dipendente dalla tabella countries quindi andiamo a rivedere la nostra domanda se esiste almeno un libro scritto da un autore inglese inglese quindi vado a vedere e comunica per tutti i comuni che appartengono all'Inghilterra cerco di selezionarmi e così via vediamo il risultato vediamo se c'è un risultato innanzitutto magari l'ho scritta molto male questa query eccoci qua vedete sostanzialmente mi ha detto che esiste un libro certo che c'è l'ha scritto un certo David Dickens e il titolo del libro si chiama Right or Wrong quindi come dire come vedete scrivere una query di selezione non è così difficile ma bisogna avere le idee chiare l'esempio che vi ho appena fatto forse è uno degli esempi più complessi che uno può immaginare perché sono passato da diverse tabelle ma è solo un modo per mostrarvi la potenza e il fine tutto sommato a cosa servono le query e mostrarvi il fatto che non se ne può fare a meno cioè Access lavora sulle query e noi dobbiamo fare amicizia con le query ok in ultimo vi lascio con una cosa più semplice anche perché ho voglia di mostrarvi come dire tutto ciò che esiste oltre alle query di selezione le query di selezione sono queste se noi creiamo una query in visualizzazione struttura al momento non scegliamo di mettere assolutamente nulla all'interno se faccio tasto destro sulla parte grigia dove si inseriscono le tabelle e vado in tipo di query vedete che oltre alla query di selezione che è quella standard come abbiamo detto ci sono una serie di altri tipi di query che sono tutte importantissime ora la differenza tra queste due query e ci fermiamo qui qual è? è che la query di aggiornamento sostanzialmente aggiorna un campo già esistente quindi una colonna già esistente ha un valore in un record già esistente quindi se vogliamo fare un esempio possiamo prendere un che so la nostra tabella comuni banalmente diciamo che vogliamo aggiungere un campo di test quindi entriamo in visualizzazione struttura creiamo un campo di test lo chiamiamo proprio test e dentro ci scriveremo che so italiano per i comuni italiani estero per i comuni esteri per cui che cosa vediamo innanzitutto nel momento in cui andiamo a salvare la tabella vediamo che il campo test è stato creato e ovviamente ha dei come dire degli spazi dei contenitori pronti a ricevere dati quindi il contenitore c'è già i record ci sono già quello che fa una query di aggiornamento è quello di andare a inserire dei dati nei record che già ci sono beh e allora come si fa una query di aggiornamento di questo genere è facilissimo allora proviamo a rifare tutto da capo vado in crea vado in struttura query e abbiamo detto che io voglio inserire nel campo test italiano straniero a seconda che il come dire il comune sia un comune italiano o straniero qui dovete essere molto furbi voi nel momento in cui dovete creare le query cioè io come faccio a sapere se il campo come dire nel campo test devo inserire italiano o straniero sulla base come dire di quello che c'è altrove nella tabella che cosa mi posso inventare per fare in modo da discernere da capire che differenza c'è tra un comune italiano e un comune straniero spesso basta andare a vedere come dire a confrontare i campi e la risposta viene banalmente da sé in questo caso è molto semplice gli unici due record che contengono dati di città straniere appunto sono gli ultimi due questi e possiamo già notare che per esempio il campo provincia non c'è il campo provincia non è come dire non è popolato d'altro canto si tratta di città straniere avranno un altro tipo di ordinamento che so Berlino sarà in un certo land piuttosto che in un altro per cui ovviamente non abbiamo la possibilità di giungere fino a questo livello diciamo di approfondimento tutti gli altri ce l'avevamo e io non li ho tolti apposta perché comunque anche se avete sovrabbondanza di dati fatto salvo il momento in cui volete dare proprio una chiusura definitiva al vostro progetto è meglio avere più dati che averne me e quindi in questo caso il ragionamento che potrei fare in una query di aggiornamento per scrivere italiano straniero è distinguere dalla presenza per esempio della provincia nel campo provincia o meno ora come si fa a distinguere a dare questa questa a chiedere questa cosa ad access innanzitutto mettiamo dentro un bel come dire il nostro bel la nostra bella tabella comune dopodiché gli diciamo guarda la provincia questa deve essere piena come si fa a dire che deve essere piena non deve essere vuota si dice nel linguaggio diciamo in VBA e quindi nei criteri io scriverò is not null non deve essere nulla vedete che ha utilizzato questa questo tipo di notazione che viene chiamata camel notation una notazione a cammello nel senso delle gobbe quindi ogni ogni parola chiave viene in qualche modo maiuscolizzata per l'inizio della parola chiave e quindi significa in poche parole se la vedete se l'avete digitate in un modo o la vedete in un altro significa che access l'ha riconosciuto ha riconosciuto il comando dopodiché a che cosa vogliamo cosa vogliamo aggiornare quale campo dobbiamo aggiornare il campo test e quindi lo inseriamo qua e che cosa devo metterci dentro il campo test beh intanto io non ho detto che questa è una tabella di aggiornamento e quindi ve lo devo dire tipo di query scusate ma query di aggiornamento query di aggiornamento eccolo qua quindi nella tabella la test quando creo una query di aggiornamento vedete cambia completamente lo scenario e qui metto il valore da inserire nel nostro caso il valore da inserire sarà italiano e quindi a questo punto credo di aver fatto tutto vediamo se c'è un risultato questo tipo di visualizzazione significa che lui aggiornerà probabilmente 8101 record su 8103 torniamo a visualizza e facciamo partire l'esecuzione e infatti access mi dice guarda che stai aggiornando 8101 record lo vuoi fare? sì ci ha messo un nanosecondo secondo me e infatti se andiamo a prendere la tabella lo vedete troviamo italiano dappertutto tranne che nelle altre due ora qui io potrei mettere straniero a mano ci siamo ma decido di fare una cosa diversa cioè qual è il contrario di non è nullo è nullo quindi per dire è nullo io basta che scriva is null è nullo esattamente così e nei campi dove non è nullo scriverò straniero ecco il gioco è fatto la medesima come dire query la utilizzo in questa maniera ho cambiato il parametro di criterio diciamo così e ho cambiato ovviamente anche il dato il valore da mettere vediamo quante ne selezionerà e infatti me ne selezionerà solamente due che sono queste due non quella con l'asterisco se torniamo in visualizzazione struttura posso eseguirla e nell'esecuzione access mi dirà guarda che dovrò aggiornare due sole righe ok a me va bene andiamo a vedere come le aggiornate e mi ha messo effettivamente straniero ora se per qualche ragione vi foste a che cosa serve la query di aggiornamento anche ad aggiornare dei dati noi qui abbiamo aggiornato da un campo vuoto a un campo come dire in pieno l'abbiamo riempito l'abbiamo riempito con l'italiano ma mettiamo il caso che ci siamo sbagliati e in questi 8100 record 101 record in realtà ci abbiamo ripensato abbiamo voglia di scrivere italiani al plurale non italiano e poi anche stranieri invece di straniero ovviamente una bagianata è solo un test però può essere importante questo vi fa capire cosa significa aggiornamento io come faccio ad aggiornare in un colpo solo 8100 record se ho una regola è facilissimo con access la regola è data da una query la query è una query di aggiornamento quindi a questo punto il campo provincia di nuovo lo metto is not null ok e il campo comuni lo metterò come italiani italiani ok avrei potuto scrivere anche una cosa diversa molto più interessante avrei potuto dire ad access guarda che se il campo test contiene il testo italiano tu cambiamelo e metterlo in italiani scommettete che funziona? bene lo facciamo facciamo questa prova togliamo questi due riscriviamolo del tutto scriviamolo in un'altra maniera facciamo così e prendiamo il campo test questa volta il campo test lo utilizzo come test e quindi metto il criterio deve esserci scritto italiano al singolare d'accordo? e che cosa mi cambi? che cosa devo aggiornare? bene lo stesso campo test tu me lo aggiorni a italiani italiani se questo modo di pensare di procedere funziona vedete lui mi ha detto guarda che io ho trovato 8101 campi con italiano scritto dentro ho detto va bene esattamente quello che mi aspettavo e segui la query lui mi dice che me ne aggiornerà 8101 gli dico di sì e se andiamo a vedere il risultato vedete è italiano quindi è veramente un metodo efficiente per fare aggiornamenti massivi io mi fermerei qui per non darvi altre noie e altri pensieri vi chiedo siccome questo argomento mi rendo conto che è estremamente difficile nel caso fossi stato racconoso di darmene notizia scrivetemi su capannoli chiocciola gmail.com cercherò di dare una risposta alle vostre domande o a essere più preciso su cose in cui magari lo sono stato poco e vi ringrazio e a presto ciao 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 Grazie a tutti.